Un intero quartiere, forze dell'ordine e volontari mobilitati. Domenica 4 dicembre, circa 900 abitanti della frazione di case bruciate saranno evacuati in via precauzionale per ordine della prefettura. Entro le 8 del mattino i residenti dovranno uscire di casa fino a che gli artificieri non avranno fatto brillare una bomba d'aereo inesplosa da mille libre armata di spolette. L'ordigno risalente alla seconda guerra mondiale è stato ritrovato nel cantiere in strada del Montefeltro. L'area interessata è stata subito delimitata ed è costantemente vigilata dalle forze di polizia. C'è la disponibilità della vitrifrigorena come luogo di ricovero e abbiamo avuto anche la disponibilità da parte degli Iperrossini di aprire i battenti non alle 9 ma alle 8 e 30. Le operazioni di sbombro del quartiere saranno dalle 6 alle 8, poi dalle 8 ci sarà il pattugliamento delle forze dell'ordine per controllare che siano usciti tutti di casa. Ovviamente serrande abbassate e finestre chiuse, sarà un disagio insomma di qualche ora. Le operazioni di disinnesco dureranno indicativamente dalle 9 fino al massimo mezzogiorno. Speriamo che non ci siano poi complicazioni e l'ordigno verrà fatto brillare poi in un'altra zona, nell'ex cava sopra la zona di Borgo Santa Maria, l'ex cava della Pica. Dunque una giornata di disagio, ha precisato l'assessore, non solo per i residenti ma anche per chi viaggerà lungo l'autostrada. Infatti rimarrà chiuso al traffico il tratto Fano-Cattolica in entrambi i sensi di marcia. Sarà chiuso anche un tratto di circa 5 km di strada Montefeltro, dalla rotatoria posta all'altezza della ditta Fratelli Lazzarini alla rotatoria di Borgo Santa Maria. Saranno predisposti sbarramenti vigilati sugli snodi. Anziani e disabili invece come verranno gestiti? Allora i disabili sono destinati alla struttura di Galantara, sono già stati censiti in qualche modo, sappiamo già chi sono i soggetti che devono essere trasportati a Galantara, c'è collaborazione da parte del Croce Rossa e di 118 rispetto a questo tema. I positivi al Covid invece dovranno farsi un giro un pochino più lungo perché dovranno andare all'ospedale di Macerata Feltria e poi dopo nel pomeriggio rientrare nelle loro case. Un gruppo di volontari della protezione civile rimarrà a disposizione per fornire informazioni alla cittadinanza. Possiamo rassicurare la popolazione che non ci saranno atti di sciacallaggio visto che sarà presidiato? Sì, questo è un tema ricorrente, ormai tutti hanno paura degli sciacalli del mattino ma le forze dell'ordine ci hanno rassicurato, c'è un coordinamento della prefettura molto capillare quindi sappiamo forse quella zona lì si rassicura più di tante altre zone di città.